Ehi la ciurma, io sono Mazzesce e ci ritroviamo di nuovo su Imperator Rome. Abbiamo davvero un pochettino di pasticci in questi ultimi episodi, dati dal pretendente che davvero ha un sacco, un sacco, un sacco di supporto, ma non capisco perché ne abbia così tanto, visto che comunque ha una popolarità bassa. Che robò, vogliono tutti lui, ma se andiamo qua, scusate, se andiamo qua perché ci dice che vogliono lui. Brega, dei possedimenti, delle corti, le ali, della stessa famiglia, e ha tutta quella roba, la carisma, la finestra, eccetera, eccetera. Quindi se noi gli togliamo delle corti, ottimo. No, togliamo delle corti a lui. Purtroppo su che fare strade. Adesso ho più supporto. Al 0,55 dalle corti le ali. Che è molto meno. Oh! Oh! Più 0,04! Oddio, grazie! Stiamo iniziando a recuperare. Adesso che non ha più corti, stiamo riuscendo a ripillare un pochettino. Però per 0,04 ce ne vorrà tantissimo il pregatore positivo. Però se il... La legittimità del nostro rete è molto più alta di quello che non abbiamo attualmente. Spero che dovessimo morire in qualche situazione. Possiamo alzarla dei 10? Facciamo. Se è davvero necessario in questo momento. Perché abbiamo catturato un nemico, scusa, della diabene? Boh? Allora adesso aumenta di 0,12 al mese. Eh, siamo senza generali in questo momento praticamente. Qua avremo bisogno di qualcuno. Ma non lo viene nessuno! Non abbiamo gente! Dardanide e Ladide... Ma come è che continuiamo a catturare dei prigionieri nemici? Della diabene? Ma dove? Come? Perché? Non siamo mica in guerra con nessuno! In guerra con l'impero se lei è uccida? Ok, ma... Che a noi? Boh, abbiamo catturato l'utilizzo prigioniero. Non so che dire... Una nuova invenzione. Eh, sì, però non... Adesso play limit più il 25% non è male, però... Perché potremmo magari avere... Eh, c'è morto pure il tizio qua. Non abbiamo nessuno! Non abbiamo nessuno da mettere! Non abbiamo nessuno! Com'è possibile? Neanche una persona? Ma possiamo andare a prendere delle famiglie tipo all'estero e invitarle da noi? Non ce lo fa fare, però, perché? Aristo Proteide è un... Amica di Nicostra Telagide. Chi è Aristo Proteide? Ah, il pad! Ma chi è Aristo? Ah, deve essere il nostro amico per poterlo portare da noi? Ma quindi tipo, scusate, il capo qua possiamo... Dirgli di venire da noi? Ah, fico! Ehm... Fai di uno solo questo qua. Andiamo a un attimo se i nostri soldati possono migliorare come situazione. Non abbiamo gente, non abbiamo militari di nessun tipo. Dove siamo finiti qua? No, ok. Cartagine... Qua è migliorato leggermente, ma vabbè... Più di 25%. Quindi magari ce ne morirà di meno. Ma no, il problema è sempre quello del deserto. Non è... Quanta gente ci sta? Ehm... No, grazie. Non c'è nessuno che possiano togliere, ora qua. No, mi sa proprio di no. Niente di niente. Eh, lo dobbiamo aspettare e vedere che passi questo periodo... Negativo. Ehm... Non è male questo. Però vabbè, da spenderci gli 800 monete. Per Calinodia. Calindoia. Fino a 601. Nah. Non ne vale la spesa. No, no, no. Ma... Non abbiamo proprio... Come cavolo facciamo mettere... Dobbiamo fare amicizia forse con qualcuno di straniero. Molto ben messo. Non lo so, tipo c'è qualcuno in Frigia che è messo bene. Questo tizio qua... Boh, è un 6. Non è il tizio più potente del mondo, ma... Ehm... Ah, no, e questo è il capo di tutti. No, direi di no. Ehm... 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 Ma come faccio a trovare della gente a caso? C'è l'Octeus, però sono... Questi sono solo i nostri. Ma è di famiglia dire che ne abbiamo comunque. Non è che siamo messi così male come famiglia. Boh... Ne abbiamo anche annesse abbastanza di recente. Poi continuiamo a essere messi male. E' un problema proprio che poi rivela che stiamo... E' il governatore della Cirenaica? E quindi adesso chi mettiamo come governatore della Cirenaica? Posso togliere questo... E' il comandante. Ah, ma mio marito è... Non è cittadino. Ma... Ok, Lord. Vediamo un attimo quelli che non sono... No, questi sono quelli... Ecco, non impiegati. Ehm... Gender... Maschile, ecco. C'è qualcuno che possiamo... Allora, questo per esempio... Ok, diamogli la cittadinanza. No, cosa ci serve che abbia... E' un archisomatifilasso. Non so cosa faccia in realtà. Ha bisogno del militare però, ha bisogno del... Dell'oratore buono. Ehm... No, cosa che era il discorso? Il discorso è di Characterscual che sono... Anche questo che è un 5. Oddio. Aspetta. No, boh, questo... Perché non ho lavoro? Allora, mettiamo... Lui... E... Alla Siria mettiamo... Questo... Ehm... Perché se ne vanno la sua in cima? Cosa... What? Veniamo sconfitti perché non lo abbiamo in generale. Ovvio, ovvio. Posso prendere questo? Posso... Posso... Come faccio a toglierlo come in generale? Senza metterne uno nuovo? Forse non posso perché c'ho le truppe le ali. Boh... Forse sì, però in questo momento vuol dire che non posso andare ad attaccare quelli. Ok. Eh, andiamo a chiamare questi altri qua. Unitevi e... Boh... No, questo... Fate le marce forzate che se no non arrivate mai più. Guardi, là ci sono quegli altri, quindi quei tizi dovrebbero fermarli in qualche modo, però... Si sa mai. Allora, sta salendo di 0.12, che non è male. Anche se quando ci scende di nuovo la tyranny, credo che aumenterò di nuovo forzatamente perché... Avevo bisogno di avere legittimità positiva il prima possibile. Come è depressa. C'è anche solo che ci muore. Dove? Ma perché continuo a catturare della gente a caso? Dove sono andati i barbari? Si sono schiantati? Ah, mi sa. Vabbè, tornate indietro a questo punto. E voi togliere le marce forzate? Oh, cercherò una soluzione su internet per questa cosa qua... Questo problema è della gente che non esiste più. Vabbè che uno può... Espandersi forzatamente perché non ha gente. Boh... No? Cioè noi dovremmo espanderci in quella zona là, ma mi sa che non lo riusciamo in questa situazione perché... Rinisce l'impero di Alessandro. Cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di prendere la roba sia dalla Frigia, che dall'impero se le uccide, che dalla Comisene, e poi il problema sarà quando dobbiamo andare proprio contro la Mauria. Perché non varie anche la... Però la Frigia come è messa in questo momento? Bisogna guardarci un po' intorno. Solo 39 coorti? Oh, non è male. E ha pochissimi soldi. Potrebbe essere un'ottima situazione per andare a picchiare la Frigia. Avessimo della gente con cui picchiare. Abbiamo dei claim. Fabricate claim. Aspettate, ma forse nella diplomatica ci voglio far vedere se abbiamo dei claim. Boh, no, non lo so. Proviamo a fare declare war. No, infatti non abbiamo dei claim. Facciamoci un claim su... Qual è quella provincia? Prima che andiamo a cercarle tutte. Provincia ci serve. Appamene, appamene. Ok. Ehm... Eh, vada. Continuiamo a spendere tantissimi soldi per evitare ci fiedere la gente, ma... Ah, no, sono andati qua ai barbari, ok, ci sono ancora. Ma che ci vengono a uccidere la gente qua. Ma che ci vengono a uccidere la gente qua. Allora di nuovo. Ok, andate. Sì. Ma perché ad Alessandria continuano a mandare? Siamo pieni di gente ad Alessandria. Boh. E' un sacco di gente sleale. In questo momento. Grandi problemi. Ehm... ok. Ok. Allora, o... perde 15 di popolarità, o perde un tratto negativo. Ha perso un tratto negativo, ottimo. Ottimo, che non era pro il... Crafty. E' morto il pretendente, finalmente, finalmente! E' morto il pretendente, finalmente! Per il mio insegno è ancora più... meno di 0,14 dei pretendenti. Chi è questo pretendente? Scusami. Perché si è ammessi così male? Se non ci sono pretendenti? Non ci sono pretendenti! Dovrebbe salire di 0,14 in più! Non c'è nessuno che supporta nessuno! A meno che non abbia nascosto solo quell'altro! Prendiamo... boh! No, solo quattro ne ha! Ma... Non capisco perché continua a indicarcela! Supporto per i pretendenti? Chi supporta a chi? Lui supporta a se stesso? Ma ok, ma... Boh! Oh! Oh! L'uomo del popularity gain! Ottimo! Gli altri non ci interessano particolarmente! Ho un altro figlio? Quante ne abbiamo tantissimi? Ah, ok! 002 è il suo sport per i pretendenti, non so chi siano, ma... È una buona cosa, dai! Stasera di 0,24 a mese, ma credo che lo faremo salire più in fretta con la tirannia che non altro! Nelle volte sarei uccide? Ottimo! Va bene, dai, vi do access! No, mi spiace! Oh, grazie! Possiamo costruire degli edifici da qualche parte? Sì, possiamo costruire un po' di roba! Questo ci da... Ehm... Ehm... Ford Lever... Russian Growth... Io farei dei marketplace... Un po' in giro, così! Giusto per investire un po' di soldi! Abbiamo parecchi soldi! Perché... Non investire in... In troiti... Maggiori! Ma, più che altro, possiamo... Costruire... Vicino ai barbari! Ok... Ah, qua posso costruire, sì! Buono! Ehm... Qua anche... Ma posso costruire di nuovo qua? No, ma questi sono... Non sono proprio quei... Non sono attaccati i barbari, in realtà! Come qua, suppongo di non poter costruire... No, infatti! No, no, no! Vabbè dai, ci sta a far aumentare un po'... Gli introiti e... Ehm... La Civilization Value... Ok, 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 ok... Se diminuisce la tirannia poi possiamo magari poi... Far salire ancora un po' di più... Più zero supporti pretendenti! Ottimo! Mmm... Lei è adulta? Vuole essere sposata... Almeno uno di Finetz fin dato che non si sposa... Però quanti anni hai, scusami? Hai 17 anni, aspettiamo ancora un attimo, no? Si è d'alessante e continua a morire gente, va bene... Ehm... Mi sembra che sia giusto quello normale... Facciamo un reinforcement speed... Abbiamo parecchio di Finetz da spendere... Disciplina di... Ok... 6 engineers più uno, va bene... Difesa dei forti... Ehm... 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 Mi sa che siamo obbligati... Facciamo un brief opinion maximum... Ok... Porto di Tech Investment... Vai! Un maggiore di Pratic Range... Non ci interessa tantissimo in questo momento... Ehm... Si che siamo molto indietro di... Regione... Sacrifice to the goods... Sacrifice to the goods cost... Tribute Income... Dai vassalli però... Non è che guadagniamo niente dai nostri vassalli... Facciamo... C5% di... Difesa... Vabbè dai... Vada così... Allora vediamo un attimo... Questo si guadagna un pochettino... Ah... Aumenta di 0,2... Ehm... Rimane costante... Diminuisce... Diminuisce... Ah... Ha un governatore... Ehm... E' strano come... Amico... Questo diminuisce sempre... Ma almeno... Perché? Lapse del lawyer course... Negative... Legitimacy... E salirebbe se non avessimo una legittimità in negativo... Questo è quello che sta aumentando il governatore... Ok... Allora... Eh... Sì... Nostro obiettivo è sempre quello di migliorare la... Legittimacy... Vabbè... Detto questo... Per questo è più di tutto... Nei ci vediamo al prossimo... Ciao a tutti... E... Buona giornata... Grazie a tutti...